la mia donna la sua allegria sono quasi pronta per fare il video hot ancora un po di rossetto e sono da voi anime belle buongiorno anime mi raccomando stiamo in casa tag piccante domande un po anche imbarazzanti ma cominciamo alla fine del tag taggerò un canale il mio primo bacio a 15 anni al mare in spiaggia a mezzanotte sotto le stelle romantico più che mai un po come cenerentola ma cenerentola in compenso a mezzanotte scappò dal suo principe azzurro invece io a mezzanotte baciai la mia prima volta al mare con un bolognese sochman e ovviamente tutti i miei amori provengono dalla romagna romagna mia romagna in fiore stupendo biondo con gli occhi azzurri aveva più o meno 19 20 anni a mia stessa età e il posto però dove lo fammo era molto squallido appunto era un garage baby doll completino sexy io amo entrambe le cose baby doll al suo perché completino sexy comunque si può mettere tutti i giorni sotto al vestito ma il baby doll solamente in occasioni particolari la mia posizione preferita curiosi volete saperlo ma non ve lo dico vi dico solo che è nel letto direi in una vasca idromassaggio con di fianco una bella bottiglia di spumante oppure anche sotto a un bel cielo stellato di stelle in mezzo alla natura beh ho l'imbarazzo della scelta ce ne sono tanti belli affascinanti sceglierei Fabrizio Moro rude oppure un Raul Boba un Leonardo Di Caprio taggo il canale di Umbretta per chi non la seguisse consiglio di andare a visitare il suo canale ovviamente questo tag è rivolto anche agli altri canali chi avrebbe voglia di farlo con ciò anime perse anime belle vi saluto e mi raccomando state in casa un bacione la mia donna la sua allegria che mi